Benvenuti, facciamo questa lezione ripetendo quello che abbiamo visto su come fare gli HUD delle ultime lezioni fatte nel mondo, nell'ultima settimana, mercoledì. Allora, gli HUD, cosa sono gli HUD? HUD HUD, vuol dire Head's Up Display, è un termine militare che si usa soprattutto fra i militari per indicare quei tipi di elmetti che hanno sulla visiera delle indicazioni che si vedono quando questi guidano gli aerei, quindi praticamente senza dover guardare niente, in particolare, quindi semplicemente aprendo gli occhi loro si vedono queste cose. Qui da noi questi HUD, gli inglesi li chiamano HUD, sono degli oggettini che adesso vediamo, quindi se noi, per esempio dei cubi, se noi creiamo un cubo che come vedete è mezzo metro di dimensione delle sue caratteristiche, quindi siamo 0,5 per 0,5 per 0,5 e questo qui è già candidabile a essere un HUD. Allora, per averlo come HUD bisogna, si può fare in due modi, o si cambia il nome, lo si chiama HUD Ok, fin qui nulla di strano, è semplicemente un oggetto buildato, infine. Osserviamo solo come è direzionato, vedete che c'ha le varie frecce, quindi c'ha tre dimensioni. Quando lo prendiamo, cosa facciamo? Lo prendiamo nel nostro inventario, prova di HUD, e ce lo troviamo fra gli elementi recenti, qua, magari con gli elementi recenti, qui, gli mettiamo il filtro, file, mostra filtri, ok, e diciamo che, ok, così diventa veramente recenti, cioè gli elementi recenti che abbiamo, che sono stati fatti nell'ultimo giorno, ok, e qui abbiamo questo prova di HUD, prova di HUD, vedete, se io lo indosso, se io lo indossassi, facciamo tasto destro, e lo indosso, allora, l'indossamento di un oggetto, vedete che lo attacca alla mano sinistra, invece io non voglio, e poi posso fare doppio clic per indossarlo e doppio clic per disindossarlo, però io voglio indossarlo, in realtà, come HUD, allora, come HUD, tipicamente gli HUD possono essere messi in varie zone, vedete, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zone, abbiamo center, quindi, ad esempio, se io lo indosso al centro, vedete che il cubo risulta indossato al centro, e vedete che risulta indossato in modo tale che si vede la parte, diciamo, allineata perpendicolarmente alla freccia rossa, cioè quindi il blu e il verde, quindi viene schiacciato, cioè lo vedete praticamente come un quadrato, anche se è un cubo, se io lo indosso, invece, non al centro, ma per dire, quindi facciamo uno stack, oppure doppio clic e viene staccato, e poi lo indosso a HUD, invece che al centro, che ho visto prima al centro 2, quindi vedete che viene indossato anche lui al centro, però sono due centri in modo tale che volendo posso averne due digetti al centro, oppure posso staccarlo e indossarlo, vedete, a HUD top right, e allora vedete che appare là, posso fare, attacca HUD top left, quindi viene, compare lì, e così via, posso metterlo in tutte le altre zone, quindi al top, che compare lì sopra, posso metterlo al HUD, al bottom left, bottom right, quindi bottom left, bottom e quindi possono essere messo praticamente nelle tre aree principali dello schermo, più due centrali, doppio, ok? In realtà, anche se io lo attacco al centro, poi quando vado tasto destro modifica, me lo posso spostare praticamente in altre parti dove voglio, e soprattutto posso anche cambiare le dimensioni, per cambiare le dimensioni del HUD, posso fare in diversi modi, nel senso posso andare sull'oggetto e cambiare le dimensioni, quindi ad esempio questo oggetto lo possiamo fare per esempio 0,2 lungo la X, che era la rossa, beh, prima a farlo, 0,2 lungo la X, vedete che non cambia niente, perché è cambiata la freccia rossa che non vediamo, ma 0,2 lungo la freccia verde, invece, vedete che si vede, che 0,2 qua vedete che è idem, nel senso che l'ho rimpicciolito, alternativamente posso anche fare CTRL SHIFT, vedete, e facendo CTRL SHIFT possiamo aumentarlo oppure ridurlo, quindi praticamente posso aumentarlo oppure ridurlo, e poi posso spostarlo dove voglio, ok? Ora, una cosa che può capitare è che, anche qua posso usare questo per spostarlo, può capitare che per qualche motivo lo HUD venga perso, quindi non lo vedo più, perché magari mi finisce, oppure come qua, che non ho più le freccine e diventa difficile da manovrare, nel senso che non ce la faccio più, quindi come faccio a recuperare questo oggettino qua? Beh, se riesco a selezionarlo posso ancora eventualmente modificare la posizione, ma non è la cosa più comoda, se no, se io penso di aver smarrito un HUD, la cosa che posso fare è molto semplice, è crearne velocemente un altro, o averne un altro qualunque, per esempio un cubo qualunque, qualunque esso sia, quindi facciamo un cubo HUD di aiuto, ok? Questo lo indossate, quindi per indossarlo bastava che lo prendete per indossare dall'inventory, oppure anche c'è la possibilità di indossarlo direttamente da qua, quindi da altro c'è, attacca indossa HUD, vedete? Quindi indossa HUD, dove lo mettiamo? Al centro, e vedete che ho indossato il mio, un altro HUD, no? Ora, in che senso questo qui ci può aiutare? Ah beh, è solo indossato al centro, quindi ha rimpiazzato l'altro, e non è esattamente quello che volevo, quindi noi riprendiamo lo HUD precedente, oltretutto una volta che è stato indossato in un certo modo, se io lo clicco, vedete che lui torna indossato al centro, però torna nel punto in cui c'era prima. Allora, per riprendere in realtà devo prendere il cubo HUD di aiuto e magari lo indosso, attacca l'HUD, lo mettiamo in un punto diverso, per esempio al top, vedete quindi qua, e poi posso andare in modifica di questo e a questo punto muovo la rotellina del mouse, vedete? Se io muovo la rotellina del mouse verso di me, in senso orario vedete che mi fa vedere questa cornice bianca, che mi permette di vedere il video, mi permette di accedere a tutti gli altri HUD come questo e quindi posso prendere questi HUD e rimetterli in vista, quindi in questo caso lo rimetto sulla sinistra e di conseguenza li posso usare, quindi li ho ritrovati e a questo punto le coordinate diventano quelle quando faccio escape vedete che il mio HUD, quello lì, l'ho ritrovato, l'ho rintracciato sì, altri modi per perdersi gli HUD che ho visto, e magari hanno una dimensione molto piccola se noi facciamo 0,1, 0,01, vedete che l'HUD c'è ma praticamente non si vede, è un puntino lì quindi come faccio a trovarlo, l'HUD, qui anche se so dov'è, innanzitutto se ho il mio aiuto HUD vedete che spostando, mi fa vedere anche le altre cose che si spostano e quindi più o meno si intuisce dov'è oppure se so più o meno vagamente dov'è posso fare anche qua vabbè qui non riesco a selezionarlo dove potrebbe essere lo HUD non si sa quindi tipicamente si può andare a ok qua vedete che posso selezionare, no non lo prendo, eccolo qua praticamente se si ha una difficoltà a selezionarlo niente, quindi l'unica in questi casi è effettivamente rifarlo oppure cambiargli, cioè riuscire in qualche modo a beccarlo e selezionarlo in modo tale da potergli cambiare eventualmente le dimensioni comunque adesso questo HUDdino qua, che era indossato oppure lo provate anche a rindossare in altro posto questa qui era la prova di HUD, che l'ho indossato al centro se io lo rindosso, attacca l'HUDd e lo metto sul bottom, ma sul center 2 vedete che me lo rimette in altre coordinate certe e quindi forse questa è una tecnica per intrecciarlo togliamoci lo HUDd questo che era stato cambiato riprendiamoci con anche questo HUDd cambiato detach e vediamo un attimino invece come fare degli HUDd un pochino più complicati allora, per fare un punto complicato anche nella prima lezione abbiamo visto che si poteva prendere un cubo, questo poi ci si allineava magari sulle dimensioni vedete che questo è rosso, quindi è la parte che viene verso di noi quindi se noi adesso lo appiattiamo e poi facciamo più o meno così, ad esempio ecco questo qui è un HUDd in cui possiamo metterci ad esempio delle texture sul davanti quindi prendiamo dal nostro inventario ci cerchiamo delle texture ecco una texture vediamo se abbiamo un tipo texture, abbiamo detto ok questa texture qua per esempio la prendiamo e la mettiamo di fronte quindi ora questo asso di bastoni abbiamo visto ci aspettiamo che se lo se lo indossiamo se lo indossiamo chiamiamolo HUDd asso di bastoni allora lo proviamo a indossare anche facendo indossavood al centro ecco vedete che in realtà la texture non si vede ma noi li abbiamo messa perché non si vede perché lui in realtà è stato schiacciato e noi stiamo vedendo il retro per poter vedere effettivamente effettivamente quello che abbiamo fatto dobbiamo ruotarlo attorno all'asse Z e per farlo dobbiamo ragionare sulla rotazione in gradi qua sotto quindi nelle caratteristiche dell'oggetto rotazione e qui facciamo 180 sull'asse Z e facendo in questo modo vedete che effettivamente abbiamo il nostro il cubo è rotato correttamente cioè il cubo è il piano e quindi a questo punto se io lo detaccio e lo reindosso tutte le volte si reindossa sempre nel center e sempre nel punto in cui l'ho messo quindi se noi l'abbiamo messo lassù allora prossima volta che lo reindosso si rimette lassù adesso in diante dovrebbe conservarsi anche se voi lo date il punto di indossamento e il e come è spostato anche se lo date a qualcun altro nel caso comunque dovete imparare a capire come indossarlo in quale punto come vi ho fatto vedere prima perché a volte queste cose si perdono comunque supponiamo che adesso questo hood gli vogliamo aggiungere delle cose per esempio dei bottoni abbiamo visto nella prima lezione quindi non si può fare mentre l'oggetto è indossato dobbiamo rezzarlo vedete e a questo punto vedete che lo si vede nella direzione di qua quindi nella freccia praticamente rossa cioè dietro la freccia rossa e qui vogliamo metterci dei bottoni allora dei bottoni come si fa a fare un bottone da mettere sul hood facciamo un crea creiamo un cubetto i bottoni sono a grandeline dei cosa sono? sono dei scusate sono dei cilindri ok allora li giriamo allora lo rimpiccioliamo un po' in modo tale che sia ok tipo questo control facciamo lo giriamo ok lo lineiamo e questo è un bottone un po' grosso per la verità comunque che vogliamo mettere sul nostro sul nostro hood l'abbiamo messo poi con shift lo duplichiamo quindi prendiamo shift e poi con la freccia verde vedete duplichiamo abbiamo un secondo bottone un terzo bottone un quarto bottone ok allora questi sono bottoni che rappresentano i nostri che poi useremo per per fargli fare dei mestieri quando cliccati li facciamo però per agganciarli a questo hood dobbiamo linkarli tutti assieme e come facciamo linkarli facciamo tasto destro sul primo poi con il control clicchiamo il secondo e poi col tasto sinistro ancora clicchiamo il terzo col tasto sinistro il marzo il quarto e per ultimo di solito si clicca sul nostro piano su cui sono appoggiati e si fa control l di link oppure anche da strumenti abbiamo unisci ok allora una volta che è unito questo hood diventa un hood multiplo quindi questo qui facciamo hood multiplo multiplo vuol dire che c'ha tanti pezzi vedete qui sono cinque primitive lo prendiamo ci compare nell'invento di qua hood multiplo se noi proviamo a indossarlo allora l'abbiamo indossato sulla mano sinistra e quindi noi dobbiamo dirgli attacco all'hood per esempio al top che è là lo facciamo il mestiere che abbiamo visto prima quindi lo muoviamo la rotellina per vedere meglio lo spostiamo lo mettiamo qua e eventualmente ctrl shift ecco qui ctrl shift è fondamentale poter usare queste manopole per ridurlo ok e qui ci potrebbe essere dei problemi perché se non riuscite a può darsi che ci sia il righello attaccato prima di vedere ctrl shift togliendo il righello niente quindi questo non lo riduce ulteriormente che è un piccolo ah no ecco questo a volte non lo riduce semplicemente per un motivo perché il pezzo più basso questo qua ha dimensioni molto piccole non può essere ridotto per per correggere questo effetto basta modificare le parti unite selezioniamo solo vedete che avendo cliccato su modifica parti unite posso selezionare i singoli pezzettini la cosa importante è che le dimensioni di questi singoli pezzettini siano siano praticamente non più piccoli di 0,01 in questo caso tutte vedete che qui siamo 0,03 ma se clicchiamo questa parte centrale vedete che una dimensione è già piccola e che tra l'altro proprio la x è quella che non vediamo quindi possiamo anche aumentarla gli mettiamo 0,3 quindi diventa più spesso ecco sono spariti gli altri ma per un motivo perché lui è diventato cicciuto li ha inglobati quindi facciamo una cosa per vederlo meglio lo disindossiamo lo buttiamo per terra ecco vedete che lui si è ampliato però però appunto ha nascosto i tasti quindi andiamo in modifica ecco modifiche modifiche parti unite vedete che abbiamo 0,3 questo lo facciamo ctrl shift qua e lo tiriamo giù ah ce lo siamo perso perfetto load multiple non c'ha più i tasti ah no i 5 5 ci sono sempre dunque andiamo di nuovo in bene ho preso evidentemente si era difettato quell'oggetto capita l'ho rifatto quindi ho fatto un load multiple 2 vedete che c'ha i soliti testoni vedete che è molto più spesso questo garantisce di poterlo rimpicciolire o meno se noi andiamo in modifica ce lo fa modificare ce l'abbiamo multiple 2 adesso lo cancelliamo da qua lo indossiamo attacca al hood center questo ora se noi lo selezioniamo e facciamo il giochetto di prima vedete che lui si rimpicciolisce si rimpicciolisce parecchio questo perché abbiamo fatto la dimensione x opportuna ora prima di chiudere la lezione vediamo solo un attimo come si può modificare le texture di un hood mentre è modificata è selezionato è sufficiente appunto trascinarci dentro delle altre texture che abbiamo quindi abbiamo textures andiamo a vederci un po' di texture per esempio qua gli possiamo mettere il 10 di bastoni qua il 4 di bastoni qua il 6 di bastoni qua vedete che si può toccare come se fosse un qualunque oggetto e addirittura si può modificare gli script ivi contenuti quindi posso fare tasto destro edit e andare a mettere uno script qua e questo script gli possiamo mettere uno script che faccia vedere qual è il tasto che è stato premuto questo di 0 e poi ci prendiamo il nome dell'oggetto che è stato toccato comunque qui adesso non sto a finire magari non lo salvo neanche nella cosa l'importante è che si può modificare lo script internamente ma soprattutto cosa succede se voglio modificare e aggiungersi dei tasti o modificare bene la struttura non è tanto agevole quindi occorre staccarlo andare nel nel nostro inventory prendere lo HUD in questione e se vogliamo aggiungersi un tasto occorre prima slincarlo tutto quindi selezioniamo facciamo ctrl shift l quindi lo slinchiamo a questo punto possiamo prendere ad esempio uno dei tasti e lo duplichiamo con lo shift vedete quindi ho aggiunto un tasto ma deve essere però tutto slincato e poi però devo rilincarlo tutto insieme quindi uno due sto prendendo il contro questo questo devo muovere per riuscire a selezionare via via tutti i tasti per ultimo questo ctrl l e quindi a questo punto noi abbiamo mood multiplo 2 a lo prendiamo adesso dobbiamo reindossarlo attacca l'hould center e vedete che c'è uno due tre quattro cinque tasti e quindi è diverso da prima ok credo che questo sia un po' tutto quello che si potrebbe dire o almeno buona parte di quello che si potrebbe dire sugli hood alla prossima lezione per un hood di movimento